I premi sono stati gentilmente offerti dalla Grigoni di Asiaco qui rappresentata dalla signora Silvia del Comitante Brendonate e della collocazione l'Avvocato Roberto Paciangiavono che è consigliere del Golf Club Puntari Bene Bravo! 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 L'Iconi d'Asiago ci fa pensare al dolce, al bello, al formaggio del posto, ma noi di questo posto siamo contenti di essere venuti quest'anno come tanti altri anni. Vi prometto che gli anni prossimi non vi vorremmo giocare in questo giorno, ma in un giorno venere alla vostra presenza, una domenica o un giorno più importante, perché la vostra è per noi una gara in posto. Sperando che manteniate questa promessa, l'anno prossimo saremo di più, oggettivamente in questi giorni ci sono tante persone che giocano, però non oggi purtroppo, però ciò non toglie il valore alla gara e grazie a quelli che hanno partecipato, avete visto che il percorso migliora, ci sono dei tagli migliori, voglio dire cambiando il timone, la nave nella Procella naviga meglio, pertanto tornateci e propagandate il nostro circo. Grazie a tutti. Si qualificano alla finale zona centro, che si discuterà il golf club e poi il gioco dei medici il 26 agosto 2017, i giocatori che hanno vinto il primo lordo e il primo netto di prima e di seconda categoria. Bene, ok. Nella seconda categoria, handicap da 19 a 36, seconda coppia classificata, Leonardo Lacquet e Giorgio Zonquetta con 37 punti. Ecco qua, arriva anche Leonardo. Aspetta che c'è anche il premiato, lei sta arrivando. Già fatto, già fatto, bene, bene. basta basta bravi grazie 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 ok ok fatta nella prima categoria handicap fino a 18 secondi classificati Roberto Valciagiacomo e Maiauto con 34 punti bravi bravi grazie grazie fatta molto bene grazie e brava il foglio di medici 26 ok e il chimi nell'otto Renato Pizzani e Massimo Zanardi con 26 punti grazie vediamo la foto di gruppo sì 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 bravo ci siamo tutti al tavolo di premiazione e vincitori che oggi facciamo una foto tutti i vincitori